Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Ben ritrovati amici di Agrilinea Italia, noi siamo tornati in Emilia Romagna, a noi piace questa nostra terra, in questo locale ci siamo già ritrovati con gli agrotecnici conotersisti, ci ritroviamo, rivedo le stesse facce, vuol dire un buon segnale, vuol dire che stiamo resistendo in agricoltura, abbiamo già sento dei mormorii in sala. Noi questa nostra trasmissione la vogliamo dedicare agli agrotecnici e ai conotersisti, vogliamo capire bene che tipo di relazione c'è tra l'agricoltore e il conotersista, che relazione c'è tra il produttore e l'industria, come vengono aiutati i nostri amici agricoltori in difficoltà, perché anche l'agricoltura purtroppo in questo momento in alcuni settori è in forte difficoltà. Però oggi vogliamo essere positivi, infatti abbiamo una bella sfera magica sul nostro palco, perché deve portare fortuna alle campagne degli agricoltori italiani. Abbiamo un bell'albero di Natale, per farvi gli auguri anche a voi che ci state seguendo da casa. Io vorrei iniziare subito col padrone di casa, che è il nostro Roberto Tamburini, Presidente Apimai e Ravenna, sul palco la vogliamo, Presidente. Ecco, noi naturalmente lo accogliamo con un applauso perché inizia da questo incontro la presidenza di Apimai, è corretto? Sì, è corretto, è corretto. Come si sente da Presidente? Ma diciamo così che avevo già fatto 17 anni prima, quindi direi che sono allenato, ecco. Ecco, bene, lei oggi naturalmente dovrà fare una piccola relazione, eh? Sì, direi di sì perché... Che non sia molto lunga perché i tempi televisivi sa come... Beh, insomma, adesso vediamo dai. Ecco, vabbè, dopo io direi di apertura, di aprire proprio questa nostra trasmissione con una sua presentazione. Poi Camigliani, arrivato dell'attività produttiva, non lo vedo ancora in sala, del comune di Ravenna perché è sempre Massimo Camigliani e molto attento a relazionarsi con l'agricoltura. Allora, io sarei d'accordo Presidente, io aprirei con il discorsino dei Presidenti. Naturalmente vogliamo vedere se lei è un Presidente politicizzato o un Presidente diverso. No, direi che io sono un Presidente che vedo la realtà. La realtà delle cose purtroppo debbono essere migliorate perché non vanno bene. Sia dal lato, diciamo, ambientale perché anche quest'anno è stato un anno difficile per gli agricoltori, per i contratertisti. Poi, nel mondo politico chiaramente non deve far conto che noi andiamo tutti a gonfierele, che non è così. E poi dopo credo che se ci mettiamo tutti insieme e ognuno fa la sua parte, secondo me avremo la possibilità di avere un futuro anche noi. Si parla tanto di filiere, la filiera è questa, stare insieme. La filiera è questa e lo sottolineerò nel mio passaggio perché noi dobbiamo collaborare tutti senza lasciare per strada nessuno. Bene, allora io le do un altro microfono, anzi, guarda, glielo consegno. Prenda posto, nel frattempo noi invitiamo, anzi, ricordiamo gli sponsor, Consorzio Agrario di Ravenna, che tutti gli anni è molto vicino ai contratertisti e agli agricoltori di questa terra. Mazzotti Macchine, che poi ci farà vedere una bella presentazione, Spec Agri per quanto riguarda l'agricoltura di precisione. Allora, Presidente, a lei la parola per questo discorso introduttivo di questa... Non la vogliamo chiamare assemblea questa, no, non è l'assemblea questa. Incontro con gli amici contertisti, prego. Colleghi imprenditori, illustri ospiti, desidero dare il benvenuto in questo incontro, ringraziandovi per tutti per la partecipazione. Questo vuole essere ancora una volta un momento di incontro per rendere noto alla base sociale, in quanto fatto nel corso dell'anno appena trascorso e tracciare senza perdere di vista la tragica situazione economica del Paese e di profondi cambiamenti a cui è sottoposta l'agricoltura. Le linee programmatiche in base alle quali impostare la nostra azione futura sindacale dei contratertisti. Le nuove regole PAC per l'agricoltura del prossimo quinquennio non agevoleranno le nostre imprese. La regola che ogni azienda agricola deve avere almeno tre culture diverse parla chiaro. Aziende già per se stesse o medie e piccole si dovranno ulteriormente frazionare in più culture. Ancora una volta la burocrazia, anziché snellire e rendere più competitivo il comparto agricolo, lo pesantisce con ulteriori costi. È necessaria collaborazione fra tutti gli attori della filiera agricola, agricola in primis le associazioni agricole e agromeccaniche, le OP degli agricoltori, non ultimi il mondo dei costruttori di macchine, di trasformazioni, del credito e di tutti i soggetti che a vario titolo fanno parte della filiera agricola. Se riusciremo a fare squadra tutti assieme, riusciremo in un prossimo futuro di imporre regole più snelle e meno costose per le aziende di tutta la filiera agricola di cui le imprese e contoterziste ne fanno parte a pieno titolo. La strada da percorrere è obbligata, infatti pariano chiaro gli andamenti climatici degli ultimi anni passando dalla siccità del 2012 all'eccessiva pubblicità del 2014 con l'aggravio di prezzi che in molti casi non hanno pareggiato i costi di produzione con poca eccezione di grano d'oro e medica da seme. Le nostre imprese lo riscontrano molto spesso al momento di riscuotere le prestazioni che è quello che viene enfatizzato molto spesso dagli organi di formazione come di un comparto in salute e trainante dove potrebbe assorbire altra forza al lavoro non è del tutto veritiere. L'iniziativa di AgriFidi di finanziare gli agricoltori inserendo anche il pagamento delle fatture dei contoterzisti è iniziativa lodevole che aiuta tutto il comparto agricolo. Con il passare degli anni la nostra organizzazione ha consolidato il suo ruolo di rappresentanza delle imprese agromeccaniche affiancando nel loro cammino di evoluzione delle tecnologie e nell'offerta di servizi all'impresa agricola ponendosi spesso come partner propositivo nel percorso di ottimizzazione delle pratiche agromeccaniche. La competitività del contesto socio-economico in cui oggi ci troviamo a vivere e sottolineo in modo sempre più evidente il valore e la necessità dell'associazionismo e delle sinergie tra imprese operanti nel medesimo comparto. Non è più possibile proseguire nella propria attività di impresa piccolo-grande che sia senza porre attenzione alle decisioni politiche a livello locale, nazionale ed europeo, al sovrapposso di disposizioni legislative ai vari livelli istituzionali e soprattutto all'andamento del mercato interno e internazionale. È del resto tutti ben chiaro che ormai le richieste del mercato globale orientano fortemente gli indirizzi produttivi e le conseguenti scelte imprenditoriali. L'ultima edizione del Leima ha dimostrato la vitalità del comparto della meccanizzazione agricola e negli eventi che si sono succeduti si è parlato molto di contoterzismo e del ruolo che le imprese agromeccaniche rivestono in agricoltura. L'agricoltura del futuro invita quindi a ricorrere ai contoterzisti in quanto sono le uniche imprese che hanno la forza di ammortizzare le macchine e riescono, grazie alle estensioni sulle quali operano, a fare innovazione anche se la normativa che regolata connesse all'agricoltura è spesso trevisata anche a causa di cattiva informazione finendo con l'aumentare l'abusivismo. Oggi è facile verificare come aziende agricole con estensione di qualche centinaia di ettari facciano abitualmente ricorso al contoterzismo per operazioni nelle quali l'aspetto puramente meccanico tende a passare in secondo piano. Ma è altrettanto necessario che il potere politico si renda conto che se si vuole realmente fare innovazione bisogna scommettere innanzitutto su chi manifesta un'atturale propensione a creare sviluppo e nuovi scenari. Chiediamo a gran forza di fare parte anche noi contoterzisti delle filiere EPSR regionali in quanto imprese fortemente innovative i benefici ottenuti andrebbero a disqueparare le imprese contoterziste con le cooperative che svolgono lo stesso nostro lavoro. E' noto tutti come le forti concorrenze presenti nei contoterzisti alla fine i benefici sicuramente andranno agli agricoltori. La nostra scelta nazionale e locale di collaborazione e sinergia con l'associazione degli agricoltori deve essere un segnale forte che uniti si può sperare in un futuro migliore. Tutto ciò ci stimola a continuare un percorso sindacale che ci pone come punto di arrivo quello di fare della nostra organizzazione uno strumento snello, coeso e pronto a far ricarico delle esigenze della nostra base sociale intervenendo con la dovuta obterrevolezza nei vari tavoli decisionali. Ringrazio i miei vicepresidenti Miri Mauro e Bortolotto Marco tutti i componenti del Consiglio Fragorsi Ferrero, Guarini Enzo Renzi Roberto, Cappelli Mossemigliano Sintoni Roberto e Perazza Esichiele sempre disponibili a discutere e approvare decisioni assunte per il bene dell'associazione. E quindi per me di grande supporto. Ringrazio tutto il personale per la disponibilità e per la professionalità dimostrate Fanti Donatella, Messina Emanuella Paolucci Elige Mansueto Cattia e Guarra Francesco Ringrazio in particolare il nostro direttore Roberto Scozzoli per l'impegno e per la professionalità dimostrata l'attività creata con Agronime di aiuto e supporto alle nostre aziende viva sulla professionalità del nostro direttore. Avviandomi a concludere permettetemi il mio cordiale ringraziamento al nostro presidente nazionale Pugnano Tassinari per tutto quello che in un grande capacità manageriale ha saputo portare avanti su tutti i fronti. Bene, naturalmente Presidente lei rimane con noi perché dopo ci sarà un dibattito con gli amici agricoltori e condoterzisti può prendere posto anche sul palco anche perché le sedie sono a disposizione dei nostri relatori. Aprognano Tassinari è chiamato in causa Presidente nazionale dei codoterzisti Uncai Bene, mi sembra che il nostro presidente di questa terra ravennate abbia le idee chiare. Direi che è stata un'esposizione esaustiva su tutte le problematiche la cosa che mi fa più piacere vista la militanza nell'ambito degli agromeccanici che non sono gli agrotecnici Mi devi perdonare ogni tanto hanno sempre a che fare con l'agricoltura. Ampia soddisfazione poter dare un cicchetto a questo signore. Poi dopo vi rifarò. No, volevo ritornare sull'argomento dicendo che il contoterzismo indubbiamente è una risposta concreta a un'agricoltura che deve cambiare però il contoterzismo è anche un'alleanza nei confronti dell'agricoltura ma l'agricoltura non è intesa solo come l'agricoltore proprietario del terreno ma come sistema agricolo. Quindi questo convegno deve essere la prima pietra di un modo di fare agricoltura cambiando i rapporti fra le varie componenti dell'agricoltura. Quindi io potrei snocciolarvi quanti sono i contoterzisti in Europa quanti sono in Italia quanto terreno lavoriamo quante macchine compriamo di grande potenza ma sono tutti numeri che ovviamente riempiono la testa poi se ne vanno. La cosa importante è la concretezza con cui si collabora per fare un lavoro assieme. oggi per vincere bisogna essere uniti e vincere significa noi in competizione non diciamo contro in competizione con gli altri paesi. Se riusciamo a recepire questo messaggio che va dal mondo finanziario al mondo della trasformazione all'agricoltore e al contoterzista probabilmente usiremo da una certa situazione teniamo anche presente una cosa importante l'agricoltura è la base di un'economia di un paese senza l'agricoltura con l'agricoltura in difficoltà il paese non avrà certamente un futuro. Rimano con noi il Presidente Alberto Rodeghiero poi Gianluca Bagnara prendiamo posto insieme sul palco anche perché due battute prima di lasciare la parola al Consorzio Agrario che ha delle belle cose anche da ricordarci. Allora partiamo con Alberto Rodeghiero Presidente Agri Fidi 1 Emilia Romagna fra l'altro noi ci complimentiamo con lei Presidente perché coordina da pochi giorni 13 cofidi noi in agricoltura abbiamo bisogno di voi cioè i cofidi Agri Fidi 1 abbiamo visto che è partito con un'iniziativa molto interessante quella di dare liquidità alle imprese agricole perché purtroppo in molti settori non possiamo nasconderlo le cose non vanno bene prego Rodeghiero allora intanto ringrazio per i complimenti quello che è successo pochi giorni fa come ho detto ieri nella conferenza stampa che abbiamo fatto in Unione Camera per presentare questo coordinamento è nato in un mese e come abbiamo detto è nato evidentemente perché ognuno di noi singolarmente sentiva il bisogno di fare qualcosa insieme agli altri a volte per fare dei progetti ci vogliono mesi anche anni a volte quindi in un mese ci si è sentiti tra i confidi di tutti i settori produttivi commercio industria terziario artigianato di tutta la regione e abbiamo detto proviamo a fare qualcosa insieme è una cosa che è un neonato non hanno ancora neanche cominciato a gattonare come abbiamo detto ieri starà in noi costruire le cose però ci darà più forza verso le istituzioni perché siamo i confidi e considerati di più piccole dimensioni rispetto a un movimento di confidi anche dove ci sono confidi di grandi dimensioni per cui questo lo vedremo se non c'era qualcosa Presidente allora noi abbiamo un piccolo conflitto di interessi a volte in questa sala sono i contotterzisti possiamo chiamare contotterzisti ancora Presidente ecco molto spesso sono anche agricoltori ecco molto spesso voi come agrifidi 1 avete difficoltà nel finanziare i contotterzisti però potete finanziare sicuramente gli agricoltori con questo riunirsi di confidi possiamo trovare delle strategie anche per coloro che non sono agricoltori allora secondo me certamente sì gli agrifidi gli agrifidi pronto gli agrifidi sono nati specializzandosi solo per le imprese agricole è stata una scelta nostra non è stato un dettato della normativa nazionale un confidi potrebbe lavorare a 360 gradi però è un po' come in medicina una volta c'era il medico generico che faceva tutto magari non bene niente oggi ci sono le specializzazioni e nell'ambito delle specializzazioni mi viene sempre in mente l'esempio dell'ortopedia che una volta c'era l'ortopedico che era già un passaggio rispetto al generico oggi c'è lo specialista della mano del ginocchio dell'anca e noi quando siamo partiti siamo partiti con lo spirito di fare le cose che sapevamo fare ovvero conoscere le imprese agricole e aiutare queste e ci siamo autolimitati nell'operatività tanti contoterzisti hanno le doppie partite IVA hanno una parte dove fanno gestione di terreni e poi fanno gli agromeccanici per la parte agricola noi riusciamo a intervenire con le nostre garanzie adesso che abbiamo fatto questo tavolo di confidi intersettoriali secondo me potranno instaurarsi delle sinergie per intervenire con i confidi degli altri scomparti dell'artigianato eccetera magari in maniera più incisiva anche verso il settore degli agromeccanici lei deve essere complice in questo mi hanno nominato non ho capito perché portavoce di tutti e quindi avrò sicuramente un po' più voce che se non lo fossi stato questa è la novità cioè fra le diverse attività comparti ragionare insieme anche nei finanziamenti esatto noi ci presenteremo alle istituzioni portando le istanze di tutti perfetto allora Presidente naturalmente lei poi ci dirà come rintracciarla perché magari lanciamo no è meglio di nostra dopo allora mi sembra anche questa Gianluca Bagnara lei è un economista una grande iniziativa quella di Rodeghiero cambiamo microfono perché abbiamo visto che dà qualche probleme ecco dicevo è una gran bella iniziativa quella di abbinare anche perché no l'artigianato il commercio l'industria in un discorso comune partendo guarda caso dall'agricoltura intanto a due valenze un riconoscimento al lavoro che ha fatto Rodeghiero con l'agrifidi perché è appunto un'eccellenza nello scenario degli strumenti dei rapporti fra banchi imprese nel nostro territorio a livello italiano l'altro è questo l'agricoltura da sé non va da nessuna parte dobbiamo iniziare a ragionare integrando i vari settori produttivi e soprattutto il cosiddetto valore aggiunto se noi produciamo del grano il grano non sarà mai sulla tavola del consumatore dobbiamo vedere lungo la filiera quali sono i soggetti che intervengono è il concetto dell'attività connessa proprio in questo senso qua dobbiamo iniziare a fare un ragionamento l'attività agromeccanica non è nacque come una sostituzione del lavoro la macchina che sostituiva il lavoro questo non esiste più attualmente è un processo di lavorazione e trasformazione dei prodotti per dare valore aggiunto ai prodotti e quindi tutti i servizi che devono accompagnare a far sviluppare questo dal credito alla pubblica amministrazione e così via devono iniziare a ragionare che questo è un processo di lavorazione e trasformazione del prodotto esattamente come può essere in campo come può essere la struttura la piattaforma di lavorazione e così via se non c'è una buona attività di contoterzismo in campo non c'è neanche qualità dei prodotti agricoli anche il contoterzista deve essere inserito in filiera dentro la filiera come l'agricoltore dentro la filiera non diamo sempre i soldi che rimangono all'agricoltura questo è il problema no non è una questione di soldi è una questione proprio di coordinare questi lavori qua uno dal punto di vista agricolo c'è questo se andiamo a fare 100 il valore aggiunto della filiera agricola fino ad arrivare al consumatore finale il valore aggiunto che resta all'agricoltura è il 22% 21 circa quindi ben poco di questo 21% parlo dei prodotti freschi perché se parliamo dei prodotti trasformati è il 10% quindi ancora meno prodotti freschi di questo 22% di valore aggiunto agricolo sul 100 total della filiera oltre il 50% sono ammortamenti ammortamenti vuol dire capannoni cosa vuol dire strutture costi fissi sostanzialmente ecco allora se vogliamo fare sviluppo dell'agricoltura dobbiamo esternalizzare questi costi fissi e farli diventare servizi quindi i contotterzisti investono non è soltanto un servizio a mercato ma è un modo per razionalizzare i costi di tutta la filiera quindi i contotterzisti diciamo comprono le macchine da 300-400 mila euro giusto presidente? in qualche caso sì in qualche tipo le metitrebie più grandi sì hanno dei costi di quei livelli lì però hanno delle tecnologie talmente moderne che diciamo che abbiamo un abbattimento della rottura della granella praticamente quasi azzerata quindi voglio dire sostanzialmente noi stiamo facendo un'innovazione diciamo andando a comprare queste macchine che un agricoltore per se stesso non la potrebbe fare a maggior ragione rafforziamo il discorso che ci ha appena ricordato Bagnara vorrei chiamare Torrisi e poi dopo lasciamo Torrisi perché per quanto riguarda a livello a livello lei è direttore dell'UNCAI noi lo sappiamo magari i nostri amici diranno confermo ecco a livello europeo cosa sta succedendo c'è qualche buona notizia per i conotertisti a livello europeo ci siamo mossi insieme al presidente negli anni precedenti per far sì che ci fosse per la prima volta un riconoscimento per le agromeccanici in modo ufficiale e abbiamo lavorato attraverso emendamenti che sono stati presentati da europarlamentari che ci sostenevano in questa battaglia siamo andati avanti fino alla fase finale quindi questi emendamenti hanno resistito a tutti i vari passaggi legislativi l'ultimo gli emendamenti sono caduti perché si chiama il trilogo quando alla fine la commissione il consiglio e il parlamento si mettono insieme e rimangono solamente gli emendamenti più importanti tale non è stato riconosciuto però fortunatamente il tema è stato ripreso nelle linee guida che la commissione fa e invia agli esperti nazionali dicendo attenzione e qui sta la rivoluzione e quello su cui noi avevamo scommesso uno non fare più la guerra agli agricoltori cioè tra non ho capito qualcuno fa la guerra agli agricoltori no i conteterzisti cercavano di fare la guerra agli agricoltori dicendo cerchiamo di condividere le risorse allora non si va da nessuna parte la guerra sulle risorse sulle risorse perché lì la guerra si fa sempre sulle risorse il resto sono favole raccontate la guerra sulle risorse era dire cercate di togliere qualcosa dall'agricoltura per darla a noi l'idea che invece noi abbiamo avuto ed è stata poi riconosciuta è diverso dire la prestazione di servizi non è un'attività agricola è un'attività non agricola e siccome il piano di sviluppo rurale prevede misure per le attività non agricole è da lì che bisogna attingere quindi fare tutti felici gli inglesi la chiamano win-win vincono tutti e quindi prendere da lì quindi c'è un articolo 19 del regolamento del sviluppo rurale nei piani di sviluppo rurale che ora le regioni stanno predisponendo c'è una misura la 6.4 all'interno della 6.4 come già diverse regioni stanno facendo bisogna prevedere una serie di sostegni agli investimenti materiali e immateriali realizzati dall'impresa agromeccanica quindi i PSR possono in qualche modo essere cambiati mi sembra di cambiare sì c'è nella nuova predisposizione dei piani bisogna considerare che il ruolo del codotterzista è quello che diceva prima dicevano le regioni non ce lo consente Bruxelles non è più così c'è un meccanismo della porta aperta per cui loro dicono se volete vi abbiamo indicato la strada poi sta agli stati e alle regioni per correrle perché è competenza esclusiva delle regioni il tema dei PSR bene mi sembra questa già una notizia positiva direi di sì ecco dopo bisogna vedere poi se viene attuata a livello diciamo nazionale a livello regionale da chi dipende? dipende dipende come viene visto il nostro settore se viene visto come penso io che sia che faccia parte di tutto il mondo agricolo e quindi abbia necessità di essere anche lui riconosciuto oppure se dice no dobbiamo riconoscere qualcos'altro e noi ti lasciamo fuori quindi bisogna vedere come noi ecco perché credo che sia opportuno collaborare tutti insieme perché facendo squadra riusciamo a arrivare a qualcosa di utile perché se è utile per noi è utile per tutto il settore dell'agricoltura una battuta brevissima Presidente Dassinari perché i tempi sono sempre molto ma molto breve cioè finalmente riusciamo a dialogare con il mondo agricolo e per quanto ci riguarda con questa collaborazione abbiamo aperto uno scenario completamente diverso quello che è stato appena esposto non è altro diciamo che un modo per uscire dall'equivoco di dire i contotertisti portano o rapinano quelle che sono le risorse verso gli agricoltori questo non deve avvenire assolutamente anzi più risorse hanno gli agricoltori più possibilità hanno i contotertisti di essere rimunerati nelle loro attività ma esistono altre strade che non sono in conflitto ma che ci possono aiutare quindi usiamo dagli equivoci cerchiamo di ragionare su quelle che sono le opportunità se ci sono le dobbiamo cavalcare tutti assieme assieme agli agricoltori che devono sostenere che i contotertisti hanno bisogno di essere rimunerati in un certo modo e diciamo i contotertisti che trovino altre strade per poter svolgere del lavoro costruttivo per gli agricoltori questa è la strada maestra conflitti basta non devono esserci conflitti tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv